Questa idea del giovane rimarrà sempre, nel senso che sono cresciuto qui, quindi forse la gente mi vede sempre come il giovane Casarini, però ormai ho 21 anni e credo di poter dimostrare anch'io il mio valore, quindi sono ormai diventato un giocatore a tutti gli effetti del Bologna. Non siamo sì, abbiamo avuto qualche problemino di acciacchi, di infortuni, però secondo me siamo pronti per affrontare il campionato e di sicuro lo affronteremo subito nel miglior modo possibile. Mi sento più sicuro, mi sento più pronto forse e quindi con più responsabilità e con più consapevolezza dei miei mezzi e so che posso dare molto di più di quello che ho dato l'anno scorso. Il più naturale mi sento una mezzala, in mezzo al campo, perché come ho già detto mi piace andare avanti, mi piace inserirmi, ho quelle caratteristiche lì, però se dovesse ancora giocare in fascia non c'è nessunissimo problema. Tanto mi fa piacere comunque che la gente abbia notato il mio cambiamento e abbia fatto questi apprezzamenti. e poi io dentro di me mi sento pronto per fare questo campionato. Conoscevo già Siligardi e mi ha stupito come è cresciuto, nel senso che come giocatore a livello tecnico è molto bravo, c'è un gran tiro, dribbling, velocità e mi ha stupito lui anche perché era da anni che non lo vedevo. Morleo per la corsa e per come attacca, ce ne sono vari. Secondo me quest'anno siamo una squadra molto competitiva e piena di giovani, comunque giovani intendo anche tutti con i nuovi arrivati che sono 24, 25, 26, che hanno voglia di dimostrare, hanno voglia di attaccarsi a questa Serie A e di non mollarla più. I groupmakers possono dire quello che vogliono. Adesso alla fine treremo le somme e di sicuro non puntiamo lo scudetto, questo si sa. Però non vogliamo neanche fare come gli altri due anni passati a salvarci l'ultima giornata. Vogliamo fare un campionato tranquillo perché siamo consapevoli di poterlo fare, di avere le capacità e quindi di salvarci prima, molto prima. E' di sicuro più lo stimolo perché comunque ti misuri contro dei grandi campioni, ti viene, non dico più voglia perché sarebbe sbagliato. Però c'è una carica in più forse perché tu non hai nulla da perdere e quindi per far vedere, puoi far vedere che riesci a contrastare, per far vedere che comunque riesci a dire la tua, ecco, e si dorme, si dorme, forse si sveglia un po' più agitati, ecco. Guarda, io sono, non perché sono qui a fare le interviste, quindi devo, però sono sicuro, ho questa idea che non perdiamo. Secondo me non perdiamo e poi di sicuro andiamo in campo per vincere come ogni squadra. Non possiamo andare in campo per pareggiare o per andiamo in campo per giocarcela, poi si vedrà. Comunque siamo pronti.